Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara. E' stato approvato il piano per la ricostruzione delle opere pubbliche a seguito del terremoto in Abruzzo. Si tratta di 1 miliardo 350 milioni di euro per i danni provocati dal terremoto all'Abruzzo, vanno 156 milioni 860 mila euro. Il piano, si diceva da 1 miliardo 35 milioni di euro in totale per tutto il centro Italia, servirà a finanziare la ricostruzione di opere pubbliche distrutte dal terremoto che colpì le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Lazio. L'approvazione dell'ordinanza numero 49 del commissario straordinario Paola De Micheli, che ha dato il via libera ai finanziamenti, è stata e arrivata a Pieve, Torina, in provincia di Macerata, uno dei centri più colpiti dal sisma scelto per il vertice della cabina di regia. Si è svolta ieri la commemorazione delle vittime di Rigopiano. Nel pomeriggio la palasporta di Penne, la piantumazione e la benedizione dei 29 lecce, ricordo delle vittime, seguita da una cerimonia con la partecipazione di tanti artisti e persone, cittadini comuni. In mattinata la processione dal luogo dove sorgeva l'hotel Rigopiano fino alla chiesa di Farindola, dove è stato l'arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, a presiedere la liturgia eucaristica in suffragio delle vittime in forma privata. Nel pomeriggio il preso le ha presieduto la liturgia eucaristica funebre in memoria nel suffragio di padre Nazareno Ireneo Cedrone, religioso alla famiglia del quale Radio Speranza rinnova la sua vicinanza nella preghiera per questo appunto religioso operante nella nostra arcidiocesi. E per le vittime di Rigopiano è giunto anche l'accordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che in un messaggio ha ricordato la vicinanza di tutta la nazione appunto ai parenti. Notte di paura a Dortona, un incendio infatti si è sviluppato a Palazzo Cerulli nella zona di Porta Caldari, intorno alle tre e le fiamme sono divampate per cause da accertare nell'avano ascensore. Sono state evacuate 27 famiglie, 5 invece sono le persone ricoverate tra gli ospedali di Lanciano e Chieti per intossicazione da fumo, nessuna di esse è in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri coordinati dal Maggiore Roberto Ragucci, le ambulanze del 118 e la protezione civile. Il comune di Ortona ha immediatamente attivato il centro operativo comunale per affrontare la situazione di emergenza. E' arrivato a Porta Caldari anche il sindaco Leo Castiglione. Tutte le persone che vivevano nel palazzo sono state sistemate nella sala Eden. C'è stato un sopralluogo operativo a Pescara sul primo tratto del lungomare di Porta Nuova da parte del vice sindaco e assessore lavori pubblici Antonio Blasioni per l'allestimento del cantiere dei lavori di riqualificazione affidati a un consorzio di Modena. C'erano anche l'architetto Veschi e Lorenza e l'architetto Palladini. Un cantiere importantissimo perché riprende e porta avanti una qualificazione, anzi una riqualificazione, scusate, che rende più vivibile e sostenibile un ulteriore tratto di riviera dall'altezza del teatro d'annunzio verso piazza Relaudi, ha spiegato il vice sindaco, secondo cui si opererà per 180 giorni all'intero restyling del lungomare, uniformando a re di architetture al lavoro iniziato e giunto fino a Via Pepe. Il primo lotto partirà all'inizio di febbraio. Si comincerà con i lavori che impegnano più direttamente la zona ridosso della spiaggia, in modo da ultimarli prima dell'inizio della stagione balneare, per poi riprendere a settembre con il secondo lotto, senza creare problemi, dice Blasioli alla cittadinanza, per l'accesso al mare, ma ottimizzando al massimo i tempi perché il lavoro possa diventare visibile al più presto. Sarà la misericordia di Pescara a ospitare oggi la conferenza interregionale delle misericordie d'Abruzzo, Marche e Molise. Lo ha annunciato il governatore della misericordia di Pescara, Berardino Fiorilli, che ha avuto il piacere di accogliere nei propri spazi l'importante convention organizzata dalla Confederazione Nazionale, che vedrà la presenza nel capoluogo adriatico dei governatori delle tre regioni con i relativi livelli gestionali. All'ordine del giorno della conferenza interregionale c'è la riforma del terzo settore, i concetti, le procedure, gli adempimenti che sono alla base della riforma stessa e che tutte le confraternite dovranno recepire per diventare ETS, cioè enti del terzo settore, come le modifiche statutarie e l'acquisizione delle personalità giuridiche. L'evento si svolgerà nella sede della misericordia di Pescara, in via strada delle Fornaci a partire dalle ore 18 e vedrà la presenza, in qualità di relatori, tra gli altri del, oltre che del governatore della misericordia di Pescara, Berardino Fiorilli, come padrone di casa, anche del presidente della Confederazione Nazionale, Alessandro Speca, di Giovanni Salvadori e di Carlo Andorlini, sempre del livello regionale. Scenografia spettacolare ieri alla Pala Giovanni Paolo II a Pescara per l'apertura dei campionati nazionali assoluti di danza sportiva, in programma fino a domenica 21 gennaio nel Palazzetto di San Donato, con il patrocinio del Comune e a cura della Federazione Italiana Danza Sportiva. Nel pomeriggio di ieri il simbolico taglio del nastro alla presenza dell'assessore Paola Marcheggiani, insieme ai vertici FIDS nazionali e locali, che ha dato il dia alle tantissime competizioni che interesseranno quasi mille atleti venuti da tutta Italia. Le gare sono infatti distribuite in quattro giorni, tutte nel gruppo delle danze artistiche, show dance, oriental dance, folk, boogie woogie, hip hop, disco, danze argentine, modern, contemporary, jazz dance, danze caraibiche e danza classica. Una specialità quest'ultima che avrà una giuria d'eccezione, composta da un talento di altissimo pregio, quale Carla Fracci, la signora della danza, è infatti a Pescara e ci resterà fino a sabato insieme a Renato Greco e Gino Landi. Competizione e anche spettacolo oggi alle 16.20, quando la campionessa olimpica, Manuela Di Centa, farà da testimonial all'ultima qualificazione degli atleti della sezione breakdance per gli Youth Olympic Games 2018, le Olimpiadi giovanili, che si terranno a Buenos Aires. Oggi è venerdì 19 gennaio e nella diocesi del Trivento si celebra la memoria dei Santi Fabiano, Papa e Martire e Sebastiano Martire. La direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Thomas Tommy Platotam. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo molto nuvoloso fino al primo pomeriggio, coperto nel resto del pomeriggio e molto nuvoloso nel resto della giornata, con temperature da 9 a 15 gradi e 20 moderati. E nelle zone interne cielo molto nuvoloso per tutta la giornata, con temperature da 10 a 14 gradi e 20 moderati. Il mare è previsto quasi calmo. Era l'ultima notizia per questo nostro radiogiornale. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne. Grazie e buona giornata a tutti. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.